Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo e tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Ricordiamo che è obbligatoria la dotazione invernale a bordo, catene da neve o gomme termiche sulle autostrade. La viabilità cittadina a Firenze via Bolognese è chiusa all'altezza dell'incrocio con la strada regionale 302. Chiudiamo con i treni. Per un intervento delle forze dell'ordine tra le stazioni di Prato e Pistoia, i treni sulla linea Firenze-Viareggio potranno subire ritardi, cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!